ciao e benvenuti su gallo play in questo video vi spiegherò come ottenere due dei nuovi trofei del pacchetto di espansione 8 di minecraft i trofei in questione sono fai una rollata e biologo marino ora per ottenere questi due trofei quello che dobbiamo fare è semplicemente avviare il nuovo tutorial che ci viene proposto con ogni aggiornamento che viene appunto fatto quindi saltiamo subito i vari tutorial che ci vengono sparati in faccia li saltiamo tutti finché non arriviamo nell'area centrale dove appunto troviamo la maggior parte di cose che si possono fare nuove soprattutto perché appunto sono le novità del gioco e una volta arrivati nell'area centrale ci dirigiamo subito a destra dove c'è il tridente gigante perché è lì appunto che faremo i due nuovi trofei qui ho preso il tridente ma non è strettamente necessario allora qui ho sbagliato strada ma il tridente ce l'ho di fronte quindi sono andato a sinistra invece che a destra ora mi butto giù e vado appunto nella zona nuova ovviamente era la prima volta che facevo il tutorial quindi ho sbagliato strada bene una volta che siamo andati di là un bello zombie che mi stava inseguendo va bene ok dicevo una volta che abbiamo individuato la zona da raggiungere ci basterà raggiungerla è un gioco di parole fantastico andiamo su fino ad arrivare in cima io non taglio qui perché voglio che vediate comunque la strada ma è a prova di idiota va bene allora ci siamo quasi l'ultima rampa ok ecco qui ci troviamo davanti a questa piscina e nella nella cassa possiamo trovare un tridente e un incantesimo l'incantesimo è risacca 3 ora bisognerà buttarsi un po di esperienza bastano sei barre ma io qui ho esagerato e l'ho buttato su al massimo perché non sapevo quante ne servivano comunque una volta che abbiamo la nostra esperienza abbiamo il nostro incantesimo e il tridente che si può trovare anche nella cassa lo andiamo a incantare quindi saltiamo tutorial tridente libro magico e abbiamo nostro tridente con la magia risacca 3 ora quello che dovremmo fare è utilizzarlo in acqua premendo l2 ok una volta utilizzato otterremo il nostro primo trofeo cioè fai una rollata usa la risacca per darti una spinta direi che era anche semplice ora per l'altro trofeo ci serve il nostro caro secchio quindi scendiamo le scale qua sulla sinistra che nella cassa riusciamo a trovare del metallo io l'ho preso tutto perché perché si mi andava di rubarlo tutto e poi ho creato il mio secchio ok ora ci basterà tornare indietro quindi saliamo le scale ci buttiamo in acqua e prendiamo il pesce con l2 se non ci riusciamo la prima volta buttiamo giù l'acqua e basta bene abbiamo ottenuto così anche il secondo trofeo cioè biologo marino raccoglie un pesce in un secchio bene per questo video trofeo è tutto io come al solito vi chiedo di mettere un bel mi piace di commentare e di iscrivervi se non siete ancora iscritti e ci vediamo a breve con i prossimi trofei di minecraft ciao